Buongiorno ragazzi e bentornati. Oggi inizieremo il primo video di una nuova playlist riguardante le equazioni differenziali. È un argomento che è stato inserito da pochi anni nel programma di quinta superiore del liceo scientifico e ovviamente si trova anche in alcuni esami universitari. Partiamo con la definizione. Si chiama equazione differenziale un'equazione che ha per incognita non un valore ma una funzione e stabilisce quindi una relazione tra x, y che è una funzione di x e almeno una delle sue derivate. Derivata prima, derivata seconda, derivata terza. Quindi l'equazione differenziale è un'equazione di questo tipo. Si presenta scritta così. Una funzione di x, y, y primo fino a y secondo, terzo, non mettiamo limiti. uguale a zero. Quindi un esempio può essere ax più by più cy primo uguale a zero, dove però i coefficienti a e b possono sia essere dei numeri reali oppure essere loro stessi delle funzioni di x. Vediamo subito qualche esempio per chiarire le idee. Uno, y primo uguale a due x. Oppure y secondo uguale a x più uno. Tre y primo più quattro x quadro meno uno uguale a zero. y terzo più due y secondo più y uguale a due. Come vedete non c'è una regola fissa. Non devono tutte contenere, se partiamo per esempio con la derivata di ordine tre, anche quella di ordine due, ordine uno e il termine x. L'importante è che in questa equazione ci sia almeno la derivata prima o y prima o la derivata seconda o comunque una derivata. Importante è anche definire l'ordine di un'equazione differenziale. L'ordine di un'equazione differenziale è l'ordine massimo della derivata che gli compare. Per esempio, se andiamo a vedere quelli appena visti, la prima è un'equazione differenziale del primo ordine. Compare la derivata prima. La seconda è un'equazione differenziale del secondo ordine. Compare la derivata seconda. La terza è un'equazione differenziale del primo ordine. Non è importante l'esponente di x, state attenti, ma delle derivate di y quindi. La quarta è del terzo ordine. Poi non compare per esempio y primo. Questo non è importante. L'ordine corrisponde alla derivata massima che compare. Noi, in questa playlist, vedremo le equazioni differenziali del primo o del secondo ordine. All'interno delle equazioni differenziali del primo ordine ci sono diversi tipi di equazioni differenziali e noi ne vedremo tre in particolare. Uno già in questo video e le altre nei video successivi. Già in questo video vedremo le equazioni elementari. Di solito si chiamano elementari semplicemente perché si risolvono mediante un'integrazione immediata e si presentano in questo modo come y primo uguale a f di x. Il primo esempio che abbiamo riportato sopra. Vedremo poi le equazioni a variabili separabili. Come suggerisce il nome, in una parte di questa equazione differenziale siamo in grado di dividere come prodotto la parte che comprende x e la parte che comprende y. E poi vedremo anche, per ultimo tipo delle equazioni differenziali del primo ordine, quelle lineari. L'equazione generica di una lineare è y' più ax per y più bx uguale a 0, dove ax e bx sono ovviamente funzioni di x. Per quanto riguarda le equazioni differenziali invece del secondo ordine, anche qui vedremo due tipi. Quelle elementari, che come nel caso del primo ordine si risolveranno mediante un'integrazione immediata, ma qui ne dovremo fare due essendo del secondo ordine, e si presentano nella forma derivata seconda, quindi f' uguale a f di x. E poi vedremo le equazioni lineari a coefficienti costanti. Questo sarà l'ultimo tipo che vedremo di equazioni differenziali del secondo ordine. E l'equazione generale di una lineare a coefficienti costanti è y' più ay' più by uguale a p di x. Quindi a e b questa volta sono dei numeri, perché abbiamo detto che faremo quelle a coefficienti costanti. Cercare per esempio la soluzione di y' più x uguale a 0 significa cercare una funzione y uguale a f di x che sostituita nell'equazione, quindi derivata e sostituita nell'equazione, mi dia un'identità. Me la soddisfi. Andiamo a vedere le equazioni differenziali elementari del primo ordine. Si presentano nella forma normale, quando è esplicitata rispetto alla derivata prima, y' uguale a f di x. Y' può essere sostituito dalla scrittura dy fratto di x, differenziale di y fratto differenziale di x. Quindi ottengo dy su dx uguale a f di x. Il passaggio successivo è di portare dall'altra parte dell'uguale, quindi a destra, il dx e integrare entrambi i membri. A questo punto l'integrale rispetto a y di 1 mi dà y e rimane y uguale all'integrale di f di x in dx. Questa è quindi la soluzione quando sto affrontando un'equazione differenziale elementare del primo ordine. Y' uguale a f di x si integra immediatamente e la soluzione è y uguale all'integrale di f di x in dx. Ma facciamo subito un'osservazione. Quando io vado a risolvere questa equazione differenziale, io troverò, risolvendo l'integrale di f di x in dx, una soluzione generale. Cioè non trovo una soluzione, ma trovo una famiglia infinita di soluzioni che differiscono tutte per una costante, perché ovviamente la soluzione dell'integrale di f di x in dx sarà un f grande che dipende da x e da c, dal parametro c. Se io però voglio una soluzione nel dettaglio precisa, particolare, si chiama, quindi una sola soluzione, io dovrò risolvere non solo un'equazione differenziale così, ma un sistema formato da l'equazione differenziale, quindi y' uguale a f di x, e una condizione iniziale, il passaggio per esempio per un punto y di x con 0 uguale ad a, che si chiama condizione di Cauchy. Questa condizione di Cauchy l'andremo a rivedere bene nel prossimo video e risolveremo diversi esempi per capire il significato e l'utilizzo. Vediamo ora di risolvere tre o quattro equazioni differenziali elementari del primo ordine. Primo esempio, y' uguale a x. Allora io so che la soluzione sarà della forma y uguale all'integrale di x in dx e quindi y uguale a x2 fratto 2 più c. Può esserci un polinomio, come potrebbe per esempio esserci un esponenziale y' più e alla x meno 2 uguale a 0. Anche questa volta che cosa devo fare? Devo isolare y' e fare l'integrale portando dall'altra parte e cambiando di segno di meno e alla x più 2 in dx. La soluzione sarà quindi y uguale a meno e alla x più 2x più c. Possiamo avere anche un logaritmo y' che moltiplica x meno logaritmo di x uguale a 0. Quindi avrò y uguale all'integrale del logaritmo di x fratto x in dx. Questo può essere visto e risolto come integrale immediato generalizzato come il prodotto della derivata del logaritmo per il logaritmo e quindi viene il logaritmo al quadrato di x fratto 2 più c. Possiamo avere anche un'equazione differenziale che contiene seno, coseno, tangente y' più 2 cos x uguale a 0. Quindi y uguale all'integrale di meno 2 cos x in dx e la soluzione sarà y uguale a meno 2 sen x più c. Con questo esercizio abbiamo finito l'introduzione alle equazioni differenziali. Rimanete con me, mettetemi un like e vi auguro buona matematica!